Buonasera, mi chiamo Cologio Roliotto, alla mia età ho 61 anni e sono arrivato in pasticceria all'età di 11 anni. Io purtroppo non avevo scuole, ho fatto fino alla quinta elementare e allora si usava che diceva mia mamma di andare a imparare il mestiere, si diceva omasso, omasso, omasso e non mi davano neanche soldi. Sì, mi ha fatto bene questa carriera che ho fatto fino a ora, che tuttora dopo 50 anni ancora lavoro, non è che dico, però allora si usava tanto per fare un esempio che quando si impastava la broche, i cornetti si facevano a mano. Dico, non capivamo, non si capiva perché la mente non ci arrivava forse, non lo so, i pasticceri che ho frequentato io, che erano i più anziani di me. Comunque fino ad oggi, a 61 anni, io lavoro in una pasticceria, in una giardieria, la casa del dolce. Se volete guardare il viso, potete vedere il viso su internet, la casa del dolce.it, Santa Catamera della provincia di Messina, Gioitta Antonina. Però vedendo i video che ha fatto Andrea, me ne accorgo una cosa, che io pensavo di fare come faceva lui. Purtroppo non c'era i macchinari, non c'era, ora c'è, diciamo, che tu fai una scuola, perché Andrea, ho capito che è moltissimo bravo, bravo, bravo veramente, che ci insegna tante cose. Tu dici, a 61 anni tu sei scritto al corso? Sì, mi sono scritto al corso, perché mi diceva il vecchio pasticcere che affrontavo io, hai sempre da imparare. Tutto qua. Andrea, è bravissimo, è bravissimo, bravissimo. Comunque Andrea, ti faccio i migliori auguri. Tu sei giovane, ormai io sono più granduccio di te. I migliori auguri. Bravo Andrea, complimenti di quello che fai, c'è sempre da imparare. Calogero, Alioto.